Siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino, come avete sentito poco fa nel nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Questa sera per la prima volta il nostro ospite è il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Come sempre i nostri telespettatori potranno intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure possono anche inviarci un messaggio anche tramite Whatsapp al 338 49 68 250. Allora sindaco non si placano le polemiche sul coprifuoco per i locali, commercianti e studenti sono un po' contrari a questa ordinanza che lei ha firmato. Ricordiamo per chi non ancora lo sapesse che prevede la chiusura alle 2 del mattino per i locali, sono esclusi comunque le strutture ricettive, quindi B&B, hotel, agriturismi eccetera, mentre per i giorni festivi, ad esempio anche nella notte tra sabato e la domenica, alle 2 e 30. C'è stato comunque un confronto in consiglio comunale, c'è stato un confronto con le forze dell'ordine, però insomma questa cosa non piace a tutti. Intanto partiamo dall'obiettivo, con quale motivazione è stata firmata? Sì, la motivazione è una motivazione di ordine pubblico e di sicurezza. Queste purtroppo sono delle misure che io ho dovuto adottare anche in concerto con tutte le forze dell'ordine che in qualche modo rilevavano una pericolosità appunto nelle notti in cui praticamente viene svolta questa attività degli esercenti, comunque i pub che sono aperti tutta la notte e che a un certo punto il bere, il stare insieme non dava più sicurezza. Quindi questa cosa è stata adottata da me, questo coprifuoco, che non è un coprifuoco ma è una chiusura dei locali. Chiaramente non piace a tutti, non piace a chi frequenta questi locali, non piace agli esercenti che purtroppo vengono penalizzati, però io credo che anche le ultime vicende che sono accadute nel nostro territorio, guardiamo l'evento di Marotta, appunto i locali dove sono successe queste cose, non è... A Corinaldo. A Corinaldo, scusate, sì, adesso è una zona di Marotta. Però a Corinaldo dove praticamente non dobbiamo arrivare a questo. E chiaramente già da molto tempo, dall'anno scorso, io ho incontrato tutti i commercianti, ho sempre detto bisogna fare qualcosa volontariamente, bisogna fare delle iniziative per spostare la notte, io li chiamo in questo modo, ma questo purtroppo non ha portato a nulla e alla fine ho dovuto prendere questo provvedimento che io non ho fatto a cuore leggero, ma con cognizione di causa, perché effettivamente è stato rilevato da tutte le forze dell'ordino una situazione di pericolosità. Quindi non è che il Sindaco Gambini si diverte a fare queste cose. Questa è un'azione che abbiamo in qualche modo reiterato. Noi nella nostra città, io mi sono insediato nel 2014, c'era una situazione veramente di degrado totale che ha portato un miglioramento esponenziale del tema, però la pericolosità nei locali notturni, nei locali che svolgono attività tutta la notte, comunque permaneva. E quindi per questo ho dovuto adottare quest'ulteriore restrizione che stiamo così monitorando, perché ovviamente questa dura 60 giorni, ma dopo i 60 giorni comunque dovremmo magari aggiornare, ma sicuramente non sottornerà alla situazione precedente. Quindi verrà prorogata, magari con delle modifiche, perché questi due mesi ci serviranno per capire un attimo come è possibile anche allentare un attimo questa morsa, però sicuramente ci deve essere la volontà da parte degli esercenti e dei giovani e dei cittadini della nostra città a pensare che, io ho detto, lanciamo un messaggio innovativo, invece di uscire a luna di notte, usciamo magari alle 11 di sera, così in modo che le due, le tre di notte già abbiamo usato il nostro tempo per divertirci. Quindi si tratta solo di portare avanti un progetto innovativo, così l'ho chiamato, che dalla città del rinascimento e dalla città culturale come la nostra città, sicuramente i giovani sapranno cogliere questo momento per lanciare magari una nuova moda. Ad esempio altre associazioni di categorie sono intervenute, confesercenti per dirne una, che ha sottolineato il fatto che gli studenti non sono un problema, bensì una risorsa, però insomma come dice lei è un problema di sicurezza proprio anche per gli studenti, giusto? Assolutamente, io dico questo, nessun cittadino di Urbino ha mai detto che i studenti sono un problema, questa è una affermazione, sono delle affermazioni fatte magari da chi dai banchi dell'opposizione della nostra città pensa di trovare così consenso parlando di cittadini contro gli studenti. Questa è una cosa che non esiste solo nella voce, è chiaro che nella bocca di qualcuno è quello che strumentalmente usa questa contrapposizione che non esiste, è chiaro che chiunque di noi se abbiamo degli atti come quelli magari di fare i propri bisogni per essere chiari davanti alla porta di qualcun altro è chiaro che uno non può pensare di essere felice che questo cittadino possa accogliere in modo favorevole questi atti. Se c'è rispetto come c'è per il 99% degli studenti o dei giovani, perché qui mi duole dirlo ma purtroppo per colpa di quell'1% poi tutta la comunità viene nel risente. Quindi questa è una cosa sbagliata che dovrebbero essere e sono gli stessi studenti perché noi abbiamo un fenomeno molto importante che ci deve far riflettere abbiamo studenti che abitano nel centro storico, che risiedono nel centro storico che chiedono di andare in periferia proprio perché la notte non riescono a dormire. Quindi per avere un po' più di tranquillità. Sindaco, dovremmo avere sempre su questo argomento una telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Mi sente? Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Sindaco. Sono Roberto Annibali, vicepresidente provinciale della CNA di Piesa Lurbino. Buonasera Roberto, prego. La domanda che vorrei rivolgerle è a riguardo della desertificazione del centro storico di Urbino. Sì, parli leggermente più forte per cortesia, almeno riusciamo a sentirla. Secondo noi, no parlavo appunto riguardo alla desertificazione del centro storico, secondo noi della CNA occorre incentivare e promuovere lo spirito imprenditoriale. Tutto questo dando sostegno con appositi fondi comunali, per esempio prevedere sconti o meglio esenzione totale dalla tassazione locale alle mie imprese per almeno tre anni, da estendere anche per start up che si occupano della vendita di brand di un certo livello, brand importanti, che vogliono aprire punti vendita all'interno del nostro centro storico. Per far sì che il nostro centro storico diventi appunto una galleria a cielo aperto, dobbiamo attirare gente da tutta l'entroterra e non solo. Dobbiamo essere il faro dell'entroterra, secondo noi dobbiamo puntare sull'alta qualità. Volevo sapere appunto da parte del sindaco cosa ne pensa, lo ringrazio. Grazie, grazie a lei. Sindaco che cosa risponde? Insomma anche un po' questa crisi del commercio si sente nel centro storico di Urbino, vediamo un po' delle salagini scappostate. Noi dobbiamo pensare che ad Urbino, da quando mi sono insediato io, per prendere un spazio temporale, da due supermercati, oggi ce ne abbiamo cinque. Quindi è chiaro che questo comporta un esoto del commercio dal centro storico in periferia. Questo non vuol dire che al centro storico non si possano fare azioni, però per esempio la proposta del presidente della CNA, che io ritengo possa essere accolta, ma dobbiamo stare attenti perché, come lui ben sa, ne abbiamo parlato diverse volte e un'azione rivolta alle nuove attività di sgravio totale della tassazione potrebbe anche penalizzare chi già le attività ce l'ha. Quindi non è semplicissimo prendere iniziative come queste, perché poi rischi di favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro. È chiaro che le iniziative che sono anche state fatte abbassando, per esempio, la percentuale di Imo per i proprietari che affittano un negozio a prezzo calmierato. Ci abbiamo già un'azione in atto. Sicuramente bisogna fare azioni più forti, ma soprattutto noi dobbiamo, quello che è sotto nella bocca di tutti, portare più gente ad Urbino. Quindi più turisti, più cittadini dei territori vicini, quindi delle altre città vicini, magari alla sera fare una passeggiata a Urbino. Ma per fare questo noi stiamo mettendo in campo delle azioni di coinvolgimento di tutti i cittadini. Sappiamo bene che noi quest'altro anno, nel 2020, ma già dal 2019, abbiamo delle azioni rivolte alle celebrazioni raffaellesche. Quest'anno abbiamo avuto un aumento, detto dal direttore del Palazzo Ducale, quindi dall'accesso al Palazzo Ducale, rispetto al 2017, un aumento del 20% dei turisti ad Urbino. Contro quante notizie magari si mettono in giro da parte della nostra opposizione, di chi si contrappone a noi, che a Urbino non ci sono i turisti. Quindi c'è un aumento, diciamo, esponenziale di turisti, i quali comporta una necessità di avere servizi per i turisti, perché noi siamo preoccupati, io sono preoccupato, perché ai turisti che vengono da nostra città bisogna dare i servizi, quindi ristorazione, quindi negozi adeguati per i souvenir, cioè tutto un servizio che la città deve dare, e che purtroppo nel tempo non si è preparata, e quindi stiamo stimolando, attraverso anche dei corsi con ConfCommercio, con le altre associazioni di categoria, per gli esercenti che devono essere pronti ad accogliere i cittadini, perché far venire più persone, far venire più turisti, ma non dargli un servizio adeguato, potrebbe essere anche controproducente. Quindi una crescita proporzionale di turisti deve esserci anche una risposta proporzionale al numero d'aumento, perché un aumento esponenziale, come potrebbe accadere nel 2020 con le celebrazioni di Raffaello, potrebbe crearsi qualche problema. Quindi stiamo lavorando, e quindi il tema del commercio va di pari passo con l'aumento degli accessi nella nostra città. È chiaro che bisogna avere i negozi aperti fino a mezzanotte, avere più luce nella città come quella che stiamo dando, avere più possibilità di un commercio diverso, perché non possiamo pensare che il commercio che esisteva nella città 100 anni fa o 50 anni fa sia quello di oggi, perché gli utenti che arrivano in città sono diversi da quelli che c'erano una volta. Quindi dobbiamo aiutare i commercianti con delle azioni che però, come ripeto, bisogna stare attenti perché non possiamo fare delle parzialità. Certo, ma hanno studiato insomma a tavolino. Perché un commerciante che ha tenuto duro, che ha tenuto aperto pur essendoci una crisi profonda, chiaramente non possiamo penalizzarlo rispetto a qualcuno che magari arriva più tardi. Deve essere aiutare un po' tutti. Ecco, questo è lo spirito che ci muove. In questo senso siamo disponibili a investire perché, ecco, io quello che posso dire è che la nostra città ha un bilancio a posto, nonostante le tanti interventi che facciamo, e avremo l'occasione di dirlo dopo, è un bilancio a posto e che si può permettere anche di fare delle azioni. Però prima di fare questo abbiamo strutturato una città in questi quattro anni in maniera adeguata. Parlava prima di una città accogliente. In questi giorni abbiamo visto anche delle immagini, delle fotografie di sporcizia del centro storico. magari lasciata, posso dirlo, da persone poco civili dopo le lauree. State cercando di intraprendere anche azioni in tal senso? Ad esempio ho letto di alcune multe, me lo conferma? Ma guardi, le multe magari possono essere state, perché magari possono essersi fatte, perché ci sono dei cittadini o degli avventori che comunque non sanno che Urbino non è che non si può bere, non si può neanche detenere l'alcol. E quindi magari qualcuno, ignaro di questo, potrebbe incappare in questa. Però io dico, credo che sia un'esagerazione, dire che Urbino è sporca per le lauree. Io sono ben contento se sporcano la città per le lauree, perché vuol dire che abbiamo tanti studenti, e questo lo vorrei sottolineare, che negli ultimi quattro anni, dopo la mia ordinanza contro il consumo dell'alcol, gli studenti ad Urbino sono aumentati del 30%. C'è quasi un 10% all'anno. Abbiamo, in Italia, non credo che esista un'altra università che è cresciuta così tanto. Io non ho i dati, ma lo dico perché, contrariamente a tante altre università che hanno avuto dei cali, la nostra università ha avuto un aumento. Sicuramente non è stato merito dell'amministrazione comunale, merito dell'università, che è la didattica, di tutto quello che vogliamo, ma un genitore che manda a studiare un figlio in una città più sicura, più attenta a questi temi, credo che sia una buona... cioè non sia un fatto negativo, ma positivo, e i numeri ci danno ragione. Quindi io credo che stiamo... Ecco, non vedo un problema così forte, abbiamo la nostra società Marche Multiservizi che è puntuale nel pulire la città dopo questi eventi e credo che sia doveroso come città accogliere questi studenti che festeggiano e non vedo questo grande problema. Accolgo volentieri la proposta che ieri è arrivata da Alessandro Gualazzi che ha proposto una cosa della quale se ne stava parlando già da molto tempo, anche da altri privati, di creare delle opportunità per le festeggiamenti delle lauree. Perché anche questo è un problema. A Urbino non ci sono abbastanza locali che possono accogliere o adeguatamente tutte le lauree che accadono magari nelle stesse giornate, perché questa è un'opportunità che noi dobbiamo mantenere nella nostra città. È chiaro che se vanno anche nelle città vicini siamo ben contenti a festeggiare. Ecco, però non lo vedo un problema come molti stanno sottolineando. Non è veramente un problema. Benvenga i festeggiamenti per le lauree. Si cercherà di migliorare un po' la situazione. Prima di parlare ancora di sicurezza di telecamera è arrivato un messaggio per lei. Gli ascensori della Porta Santa Lucia torneranno mai a funzionare? Le chiedono. È un grande disagio per chi lavora lì e non è una bella immagine per chi viene al centro commerciale. Che cosa risponde al telespettatore? Assolutamente. Torneranno a funzionare ma torneranno a funzionare quando ci avranno tutte le autorizzazioni. Questo ascensore era in sicurezza perché non c'erano problemi dal punto di vista di sicurezza ma non avevano l'autorizzazione Ustif che è l'ente che autorizza all'utilizzo degli ascensori pubblici. Non era mai stata fatta dall'apertura da prima che arrivasse questa amministrazione la colpa nostra è di non aver controllato che questo era stato fatto e in un controllo è emerso questa cosa. Le autorizzazioni stanno arrivando stiamo montando tutti gli accessori per poterla riaprire. io conto nel mese di marzo di riaprire questi ascensori però tutta la procedura ha comportato una lungaggine di circa sei mesi questa è la realtà. Invece in merito alla videosorveglianza del territorio quante sono le telecamere installate a Urbino? Sono posizionate in diverse zone della città. Sono 35 telecamere all'interno di Centro Storico abbiamo iniziato a montare delle telecamere sul territorio quindi a Schieti a Pieve di Cagna a Pieve di Cagna adesso siamo in fase di installazione quindi in progress proseguiremo a montare tutte le telecamere e i monitor nelle frazioni perché i cittadini che abitano nel territorio devono avere le stesse opportunità di quelli che abitano nel Centro Storico quindi avere notizia di cosa succede in città degli eventi delle problematiche dei eventuali allarmi e quant'altro quindi noi stiamo lavorando perché Urbino come tutti e molti sanno è una città diffusa abbiamo un territorio che è composto dalla città il nucleo principale ma abbiamo 18 frazioni quindi lontani l'una 40 chilometri dall'altra quindi dobbiamo dare servizio a tutti i cittadini in modo uniforme Un altro messaggio per lei Buonasera sono un cittadino di Canavaccio in relazione all'ordinanza dalle firmate che prevede la rimozione dell'amianto dal fabbricato industriale situato al centro del paese entro la fine di aprile prossimo volevo sapere quando inizieranno i lavori Allora un primo stralcio è stato già tolto quelle che erano state le prescrizioni non dipende dall'amministrazione comunale attualmente anche se noi abbiamo fatto una richiesta per acquisirla in patrimonio comunale i giorni scorsi con il liquidatore perché purtroppo parliamo di un'azienda in liquidazione sicuramente la liquidatrice ha assicurato l'intervento se non sarà fatto verrà fatto dall'amministrazione comunale l'anno scorso già la prima parte quella che l'Asur aveva determinato per la rimessione immendiata quindi sarà fatto ma non è che sarà fatto sulla rimozione dell'amianto noi abbiamo intenzione di rimuovere quegli immobili e quegli stabili che sono un degrado per il centro di Canavaccio e quindi abbiamo questo progetto con le periferie degradate che fortunatamente è stato riconfermato da questo governo perché c'è stato un momento di così di incertezza c'era un dubbio invece oggi sappiamo che queste risorse sono state confermate quindi per Canavaccio per quell'area e un'altra area degradata che gli immobili impompiuti lì vicino ci sono 3 milioni e 300 mila euro di disposizione per l'intervento di riqualificazione di tutta l'area quindi c'è preoccupazione sindaco anche per l'ospedale di Urbino un tema molto sentito da tutti i cittadini che cosa prevede il nuovo piano sanitario regionale rimarrà di primo livello ricordiamo che anche Elisabetta Foschi ha promosso una petizione una raccolta firme per cercare di sostenere il più possibile non è perché deve essere classificato di primo livello perché purtroppo formalmente non lo è anche se tutti i servizi che l'ospedale dà sono come primo livello classificato come primo livello però noi dobbiamo avere la certezza che questo ospedale sia classificato di primo livello perché non è l'ospedale di Urbino ma ormai purtroppo è diventato l'ospedale di tutto un territorio dell'entroterra e quindi non possiamo permetterci di perderlo e noi stiamo lavorando anche come amministrazione comunale devo dire in collaborazione con tutti gli altri sindaci per avere mantenere questi servizi ad Urbino per tutto il territorio e anche magari riportare qualche servizio quelli essenziali sul territorio esatto mancano dei medici sindaco assolutamente sì ci si dice che non ci sono i concorsi a cui i medici non partecipano non c'è adesione abbiamo un problema grossissimo al pronto soccorso la ginecologia alla gediatria che non viene istituita che anche se era stato progettato di averla insomma una serie di problematiche che sarebbe lungo dirlo ma sul quale stiamo sul pezzo proprio i prossimi giorni avrò un ulteriore incontro col presidente Ceriscioli perché tutti gli accordi presi e le promesse fra virgolette fatte spesso non vengono attese quindi io credo che ci sarà ci saranno degli incontri abbastanza infuocati ma pensavate anche ad una sperimentazione per il pronto soccorso che riguarda il triage quindi anche il momento di accoglienza sicuramente c'è stato dopo un mio intervento forte col direttore Magnoni che mi ha promesso di istituire questo nuovo sistema di accoglienza perché non possiamo avere i cittadini le lungaggini nel pronto soccorso sono una cosa abbastanza comune purtroppo ahimè nei territori nazionali ma noi non possiamo avere cittadini che stanno al pronto soccorso senza sapere quando sarà fatto il loro quando potranno accedere al servizio quindi abbiamo bisogno di avere un collegamento diretto col cittadino che si presenta al pronto soccorso e deve sapere se potrà essere accolto fra un'ora fra cinque minuti o fra dieci ore perché purtroppo ci sono attese anche di questo lungo periodo potrebbe essere anche visitato da un medico di base anche perché molti accedono al pronto soccorso senza un'urgenza anche questo è un argomento di cui abbiamo parlato con il direttore sanitario il dottor Cani che comunque dovremmo e io ho dato la mia disponibilità anche per incontrare questi medici di base e le guardie mediche perché ci sono alcuni servizi che le guardie mediche e i medici di base devono assolutamente fare per decongestionare complessivamente il servizio del pronto soccorso c'è un'altra polemica in atto che riguarda lo sfratto dell'AMPI e dell'Istituto Cappellini avete messo a disposizione un'altra struttura un altro locale a Palazzo Nuovo in Piazza della Repubblica quindi entro fine mese pochissimo devono lasciare i loro locali in via Oddi non sono contenti perché questi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale sono piccoli non riescono a contenere i mobili l'archivio i libri state pensando ad un'alternativa o quella rimane? Noi delle alternative ne abbiamo date diverse io credo che spostare da una zona periferica che serve all'amministrazione per un progetto più complessivo della città al centro quindi in Piazza della Repubblica Palazzo Nuovo per me è una riqualificazione di queste due associazioni non è che abbiamo proposto uno spazio abbiamo proposto due spazi separati ma nello stesso piano di Palazzo Nuovo di 40 metri quadri l'uno più le sale civiche del collegio Raffaello per le iniziative collettive quindi io credo che gli spazi dovrebbero essere adeguati loro valutano di no noi non è che abbiamo fatto uno sfratto ora io sono due anni che parlo con queste associazioni per chiedere di trovare una soluzione ho proposto diverse soluzioni un po' più lontani dalla città al centro storico però ecco non può essere che un'associazione pensi di ipotecare uno spazio che diventa il suo vita natural durante tutte le associazioni sanno che hanno gli spazi dal comune incomodato e quando l'amministrazione comunale quella di oggi o quella di domani ne avrà bisogno per altri progetti bisogna avere la disponibilità di ruotare o di trovare altre soluzioni noi stiamo fra l'altro cercando e questo mi preme dirlo soluzioni per tante associazioni per la Pro Urbino per le associazioni delle Contrade che ripeto è una delle poche città che ha le Contrade è un elemento di valorizzazione della nostra città importante io ci tengo molto perché coinvolgono tutti i cittadini nelle iniziative e quindi nelle iniziative che la città fa e quindi sono di grande aiuto sono di grande stimolo e credo che questo sia un elemento che noi non possiamo trascurare noi dobbiamo e vogliamo trovare una soluzione per l'AMPI e per l'Istituto Cappellini siamo assolutamente disponibili aperti al dialogo però ecco io non accetto l'arroganza nei confronti dell'amministrazione che rappresenta i cittadini nei confronti dei cittadini di voler mantenere quegli spazi ci possono essere delle altre soluzioni le dobbiamo trovare insieme però io ho trovato un muro perché a ottobre ho mandato la lettera di fine rapporto e si faceva finta di non saperlo di non capirlo e invece purtroppo dopo io sono un po' testardo e chiaramente non accetto questo tipo di arroganza nei confronti della città perché gli immobili non sono né di Gambini né di qualcun altro quindi devono essere a disposizione della città e ci deve essere la disponibilità da parte di tutti a collaborare per far sì che tutti trovino i propri spazi e tutte le attività le associazioni che io valuto diciamo assolutamente allo stesso modo e comunque do l'importanza adeguata però voglio dire non può essere che uno si arroga il diritto di dire qui ci sono io e non ci viene nessun altro questo lo si fa a casa propria non con i beni pubblici invece sindaco per quanto riguarda gli asfalti siete intervenuti ultimamente in via Calagostina anche nel secondo tratto di via Mazzini quindi tante ne avete fatte altre ne farete nella prossima primavera assolutamente ma non è che le abbiamo fatte adesso io da quando mi sono insediato ho trovato una viabilità dalla piazza di Urbino alle vie della città quindi via Mazzini Lavagine Santa Lucia abbiamo rifatto quasi tutte le pavimentazioni del centro storico che erano 30 anni che non venivano toccate ma andando fuori nel territorio quindi alle prime periferie della città come l'area del Sasso dove abbiamo riqualificato tutta l'area ma non gli asfalti abbiamo fatto marciapiedi asfalti pavimentazioni da Pieve di Cagne fino a Canavaccio fino a come diceva lei a Calagostina perché Calagostina questa è una piccolarità del nostro territorio a Calagostina è vicino a Urbagna e a Tavoleto a La Marcella è in Romagna quindi i cittadini di Calagostina non sanno neanche a volte di essere con cittadini di quelli che abitano vicino alla Romagna e parlano due lingue diverse uno parla il romagnolo e uno parla il durantino quindi a distanza di 45-50 km abbiamo con cittadini che avevano bisogno di servizi noi abbiamo portato l'ampiamento dell'illuminazione pubblica le strade le asfaltature la sistemazione delle strade cioè io ho trovato veramente una situazione drammatica stiamo mettendo mano a 360 gradi su tutto il territorio e la prossima primavera e non perché ci sono le elezioni come accapitava qualche volta faccio una battuta l'altra sera ero a Canavaccio dice qui la macchina per asfaltare si portava tre giorni prima delle elezioni il giorno dopo le elezioni si portava via senza fare l'asfalto questo è quello che capitava nel nostro territorio prima di questa amministrazione quindi noi finiremo il programma di asfaltatura e credo che avremmo completato veramente la sistemazione complessiva in 4-5 anni di tutto il territorio della viabilità ha citato poco fa l'illuminazione pubblica ricordo che c'è stata una richiesta anche da parte dei cittadini per Viale Gramsci e Viale Commandino appunto per le luci queste sono installate a brevissimo perché abbiamo già acquisito le lampade con un bando dove abbiamo comprato e qui vorrei sottolineare questo aspetto noi dopo diversi progetti che ci hanno proposto delle aziende private per fare la convenzione come hanno fatto la stragrande maggioranza dei comuni noi abbiamo pensato di sostituire la lampada LED da soli perché vogliamo portare nel beneficio dei cittadini al beneficio dei cittadini il risparmio energetico che comporterà il cambio delle lampade e abbiamo mille lampade comprate proprio il 30 di gennaio con il bando che è stato a cui è aderito una ditta che monteremo nella prossima primavera ma ci servirà il 2019 il 2020 per completare l'installazione delle lampade ma con un ammortamento di due anni con risparmio energetico pagheremo le lampade sappiamo bene che tutti i progetti che ci proponevano parlavano di 10 15 anche 20 anni per l'ammortamento degli impianti quindi questo credo che i cittadini lo stiano apprezzando e torno a dire abbiamo ampiato tutti quei punti ancora ce ne mancano qualcuno ma che erano non illuminati come la strada rossa come il castelcavallino come la marcella o tanti altri punti che adesso non voglio ricordare per questioni di tempo ma veramente abbiamo cercato di dare una risposta a tutti i cittadini che hanno il diritto di avere gli stessi servizi come ripeto dal territorio come quelli che abitano dentro il centro storico Sindaco abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare dalle scuole agli eventi ai cimiteri ai lavori pubblici e tanto altro ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a fra poco e siamo di nuovo in diretta a Primo Cittadino con il Sindaco di Urbino Maurizio Gambini dicevamo Sindaco siete intervenuti anche sulle scuole sui plessi scolastici tanti controlli e la decisione di eliminare completamente la plastica dalle mese scolastiche Sì, questo è un intervento che abbiamo messo in atto già da un po' di tempo da degli ottimi risultati ma stiamo intervenendo veramente su tanti plessi scolastici dalla Pian Severo alla Pascoli alla scuola di Canavaccio a Schieti e abbiamo un progetto di riqualificazione complessiva cioè di abbattimento e ricostruzione della scuola di Via Oddi perché abbiamo chiaramente trovato una situazione di non adeguatezza degli stabili e degli immobili quindi li stiamo mettendo di sicurezza con interventi molto costosi che è un progetto che abbiamo avuto finanziato anche dal Ministero quindi ecco siamo in fase progressiva di lavori su tutti gli istituti e tutti gli immobili delle scuole le nostre scuole Lavori anche nei cimiteri ne avete diversi tanti quindi nuovi loculi abbattimento anche delle piante e altre strutture Tanti interventi al cimitero monumentale che aveva una situazione quando ci siamo insediati di degrado totale l'accesso era precluso addirittura da un cantiere o una da molti anni forse da dieci anni non ricordo neanche quando ma dalle piante che non venivano abbattute secche da 10-15 anni poi magari sulla stampa viene fuori che facciamo strage di alberi ma erano alberi secchi da molto tempo ma poi vediamo che con il vento e forti raffiche poi i pubblici quindi abbiamo avuto anche purtroppo un episodio triste ma diciamo che Urbino ha il cimitero monumentale che tutti conoscono perché chiaramente ha una sua storicità ma abbiamo 18 cimiteri a cui noi stiamo sul quale stiamo intervenendo stiamo mettendo mano da Montepolo fino a Cavallino fino a Canavaccio abbiamo sistemato veramente molti cimiteri li abbiamo Maciola ad Ampiare ma stiamo costruendo i loculi a Cavallino al cimitero monumentale li abbiamo costruiti l'anno scorso per cercare di dare ahimè anche in questo campo una risposta anche a Torre Santomaso ma ecco su moltissimi cimiteri su quasi tutti siamo intervenuti a Schieti quindi diciamo che poniamo un'attenzione particolare perché chiaramente sono luoghi sensibili e molto cari ai nostri cittadini perché purtroppo ci sono i nostri i nostri familiari spesso quindi quindi però ecco stiamo veramente facendo degli interventi anche in questi giorni il collegamento al cimitero monumentale tra la parte nuova e la parte vecchia un progetto che era lì da molto tempo e non veniva attuato quindi la copertura della dell'ossario che era aperto senza coprirlo avevano finito i lavori e avevano lasciato così quindi stiamo cercando di dare vera dignità e soprattutto una cosa importante abbiamo abbattuto le piante e gli acaci che erano nella parte verso Urbino perché da Urbino il San Bernardino non si vedeva più e questo è stato veramente apprezzato da tutti i cittadini che oggi possono specchiarsi in un'altra visuale in quella veramente scorcia bellissima che è verso il San Bernardino il mausoleo dei duchi parlavamo prima del recupero delle periferie degradate ad esempio la bonifica dell'area dell'Acli a Canavaccio ma c'è anche un progetto per un camminamento da Ponte Armellina a Trasanni l'OSCA di Canavaccio quindi insomma state cercando di dare una risposta un po' a tutte le varie situazioni assolutamente parliamo di Canavaccio con il progetto di cui abbiamo parlato prima che comprende anche l'Acli quindi un centro del paese che attualmente non ha che non ha mai avuto cercando di dare una piazza un luogo di ritrovo per i cittadini perché Canavaccio per esempio faccio l'esempio di Canavaccio o di Trasanni che sono luoghi dove sono città per noi per l'entroterra perché ci sono molti comuni nell'entroterra che sono più piccoli di queste frazioni di Urbino quindi noi dobbiamo dargli la giusta dignità il giusto modo di incontrarsi di vivere di vivere questi luoghi e verrà acquistata l'area OSCA l'area della OSCA verrà acquistata se andrà tutto a buon fine incrocio le dita perché speriamo che questo avvenga perché abbiamo tutte le intenzioni di farlo e ci sarà questo progetto di riqualificazione del centro di Canavaccio di tutta la frazione di Canavaccio anche con la costruzione della nuova rotatoria che dopo tre anni di l'accesso appunto alla zona industriale per poter spostare poi il traffico pesante dentro siamo nella viabilità della zona industriale e finalmente rendere più vivibile da cittadini che abitano al centro ma Ponte Armellina l'altro luogo che è vicino a Galli di Petriani che tutti conoscono è il luogo più degradato della nostra regione è stato classificato così tant'è che abbiamo avuto un primo finanziamento di 4 milioni di euro il progetto è in attuazione stanno facendo i lavori con periferie degradate abbiamo ottenuto altri 3 milioni e mezzo 3 milioni e 8 anzi che comprende quindi il completamento della riqualificazione di Ponte Armellina camminamento fino a tre anni e abbiamo intenzione come ho già condiviso con i cittadini tre anni di acquisire il K2 che è un immobile che tutti conoscono a Durbino perché ci sono andati a ballare da giovani che purtroppo non è più utilizzabile e realizzare una piazza in questo punto che è collegato appunto a Ponte Armellina con questo camminamento è un progetto ambizioso ma io ci sto lavorando ho già fatto l'offerta per l'acquisizione di questo immobile è un immobile costruito dai cittadini di Urbino di 3 anni nell'epoca del comunismo nel senso che il circolo dei 3 anni sappiamo bene che la storia rappresenta anche la mia storia perché io provengo dal PC come storia politica e con i sacrifici degli iscritti se l'ha costruita questa sede però abbiamo fatto un incontro proprio in quel luogo ci hanno detto bene se si tratta della riqualificazione della frazione è stato ben accetto questo progetto anche dalle persone che chiaramente avevano fatto le cambiali personali per costruire questa sede quindi è un posto particolarmente sensibile però ecco i cittadini oggi hanno capito che bisogna riqualificare quell'area e lì noi veramente gli daremmo forma a una frazione come quella di 3 anni che anche qui ci sono moltissimi abitanti che non hanno un luogo dove incontrarsi e con questo noi vogliamo fare che è fondamentale anche in via giro dei debitori un nuovo parcheggio sì qualcuno nel bilancio di quest'anno in consiglio comunale è stato rilevato dalla nostra posizione perché non c'è più il parcheggio perché è già stato finanziato nel bilancio 2018 come è stato finanziato l'area dal teatro verso la nazionale verso il vecchio mulino che sono già stati finanziati appaltati e partiranno i lavori nel prossimo mese di marzo ma già finanziati nel bilancio 2018 quindi per questo nel bilancio 2019 nessuno li potrà trovare perché sono stati già finanziati appaltati stanno partendo i lavori quindi ci sarà un disagio ovviamente perché i lavori comporteranno anche dei disagi però credo che valga la pena perché quell'area lì di giro dei debitori troverà una vivibilità migliore e quegli esercizi commerciali avranno spazi per poter parcheggiare credo quindi che è tre anni che ci lavoro perché c'è stata una variante al piano regolatore le lungaggini due anni di variante al piano regolatore quindi tutte le messe a disposizione delle risorse insomma è stato lungo però quello che avevo promesso in campagna elettorale è quello che io voglio fare e sono riuscito a fare anche la data verrà riqualificata la data ci sono risorse i primi 100 mila euro per la progettazione sono stati spesi avevamo un milione e cento non saranno sufficienti per completare i lavori però entro il 2019 i lavori verranno realizzati e quindi la data potrà essere veramente quel luogo adeguato con tutto il sistema di sicurezza per renderlo accessibile invece per le misure sociali che avete adottato che avete intenzione di mettere in campo quali sono sindaco le persone più bisognose magari gli anziani le persone pensionati disoccupati visto che il periodo che stiamo affrontando non è rosio non è facile però ecco noi abbiamo per quanto riguarda l'assistenza agli anziani abbiamo finalmente riaperto la casa di riposo la vecchia casa di riposo dopo la Montefeltro che era stata costruita ex novo abbiamo riacquisito 20 posti appunto nella vecchia casa di riposo ne abbiamo altri 14 da completare i lavori sono stati convenzionati i 14 posti con con la regione Marche come RP quindi un risultato che io non speravo neanche di portare a casa abbiamo istituito un progetto il dopo di noi il comune ha messo a disposizione un appartamento per queste queste persone che hanno sono a carico dei familiari che i familiari giustamente i genitori sono preoccupati per quando magari un domani lontano ma non ci saranno più e quindi questi questi ragazzi magari non troveranno e lì hanno trovato veramente un progetto che da tutti mi è stato detto che è veramente stato accolto positivamente sta funzionando bene speriamo di poterlo portare avanti come ambito sociale non è solo di Urbino però il comune di Urbino ha messo a disposizione questo appartamento alcune ditte locali hanno dato gli arredi quindi c'è stata veramente una collaborazione e per quanto riguarda la povertà noi abbiamo triplicato le risorse in quattro anni abbiamo triplicato le risorse a disposizione tant'è che nel 2018 non siamo riusciti ad assegnare tutte le risorse che avevamo a disposizione perché non ci sono state le richieste quindi questo non sono previsti anche dei buoni farmaceutici ci sono una serie di azioni che sono in campo e quindi abbiamo cercato di aumentare le risorse l'abbiamo fatto e chiaramente abbiamo pensato nell'ultimo incontro anche con i sindacati che ci spingono a fare attuare misure di allargare diciamo lo spettro d'azione perché con quelli con i parametri che avevamo non siamo riusciti ad assegnare tutte le risorse messaggio per lei sindaco visto che è separato di asfalto per quando è prevista l'asfaltatura della strada che collega Schieti a Pallino anche questo è un progetto già finanziato già passato proprio stamattina ho parlato con Mara Mandolini che è la nostra responsabile dell'ufficio tecnico che ringrazio perché fa un lavoro enorme una persona veramente capace non so tutte le qualità di questo mondo perché è veramente una persona operativa e la ringrazio perché veramente non è facile trovare persone come lei però ecco stiamo sia la strada di Via Piana che molti cittadini di quel luogo stanno aspettando e la Palino Schieti dobbiamo allargare due curve prima di asfaltarla ma nel mese di marzo questa strada sarà fatta perché è già stata finanziata ed appaltata nulla da dire sulle opere pubbliche quali asfaltature e varie ci scrivono ma dire che il sindaco non stia favorendosi gli elettori con ordinanze proibitive e deleterie per l'economia di Urbino è una menzogna Urbino sta morendo anche grazie al sindaco ci scrivono vuole replicare? assolutamente sì io non credo che Urbino stia morendo per questo Urbino non sta morendo e questo messaggio negativo è un messaggio che assolutamente non fa bene alla città Urbino non sta morendo Urbino sta aumentando i propri iscritti come università quindi aumentando le presenze dei giovani proprio in questi giorni ho avuto visita di alcune persone che mi hanno detto ma è una città unica perché avere una presenza così alta di giovani è una cosa inconsueta sta aumentando esponenzialmente i propri visitatori i propri turisti se pensiamo che a Urbino il mese di luglio era un mese morto completamente quest'anno nel 2019 abbiamo avuto una presenza costante di turisti a Urbino a luglio venivano solo quando pioveva che al mare non si poteva andare invece noi quest'anno abbiamo avuto una presenza costante non detto dal sindaco Gambini che potrebbe avere interessi politici a dirlo ma basta chiedere al direttore del palazzo Ducale che non deve essere eletto da nessuno se non dal ministro quindi questi sono dati che dà il nostro direttore della Galleria delle Marche quindi lanciare questi messaggi negativi fa solo male alla città abbiamo bisogno della collaborazione di tutti l'ho detto prima dei commercianti degli albergatori degli ristoratori di tutti dell'università del palazzo Ducale abbiamo fatto una riunione venerdì scorso con tutti gli attori dall'Accademia Raffaello quindi il professor Bravi dal direttore della Galleria delle Marche da Torrelli Dottori che ha questi due centri commerciali che ha costruito a Urbino che anche lui chiaramente ha necessità di espandere la sua attività che vuole collaborare proprio per far aumentare la presenza di Urbino di turisti e quant'altro quindi c'è una collaborazione di tutti serve collaborare e non lanciare messaggi negativi che fanno solo male alla crescita della nostra città lo spopolamento dell'entroterra non è una caratteristica di Urbino è un dato uniforme su tutto il territorio dell'entroterra di quanto è stato questo calo sindaco? in questi 4-5 anni è stato di 700 unità ma non è che è dato dal fatto che Urbino Urbino ha perso i suoi abitanti negli anni dal 90 al 2010 posso chiedere se stranieri o italiani? è stato il calo poi sono stati sostituiti dagli extracomunitari 2.800 per l'esattezza quindi questi extracomunitari queste persone che venivano da fuori più della metà se ne sono andati quindi ha mantenuto diciamo il non calo dal 2000 dagli anni 80 fino ad oggi siamo stati sempre 15.300 15.400 da quando sono andati via una buona parte degli extracomunitari perché chiaramente in alcuni luoghi del territorio non hanno trovato lavoro si sono spostati da altre parti però il calo è avvenuto perché a Urbino negli anni 80 dagli anni 80 al 2000 non si poteva costruire un appartamento perché era tutto bloccato quindi i cittadini di Urbino le famiglie le persone come me che adesso ho 58 anni e che negli anni 80 avevo 20 anni i miei amici piangevano perché non riuscivano a trovare un appartamento a Urbino dove erano costretti ad andare a Fermignano oggi chiaramente a Urbino sono rimasti solo gli anziani tant'è che abbiamo purtroppo una mortalità esponenziale rispetto alle nascite perché i figli di quelle persone che oggi sono anziane si erano spostati in quegli anni Fermignano in sei anni hanno avuto 2000 famiglie formate di cittadini di Urbino che si sono spostati a Fermignano il problema non è di oggi è del passato noi oggi però abbiamo il dovere di fare delle azioni per ripopolarla credo che fatta pulizia perché c'è stata anche fatta pulizia di quelli che non c'erano più che comunque rimanevano registrati e mi fermo qui noi abbiamo vogliamo la verità la verità è quella di oggi quella dei cittadini che oggi vivono a Urbino e credo che abbiamo importanti e buone prospettive di far ripopolare attraverso le azioni che stiamo mettendo in campo Sindaco siccome abbiamo ancora pochi minuti una decina di minuti le chiedo un botte risposta prima mi parlava anche dell'importanza delle varie collaborazioni è stato firmato e qua dovremmo avere due foto un protocollo di intesa proprio per valorizzare la cultura gli eventi insomma anche per valorizzare la comunicazione il primo progetto è dedicato alle vacanze artistiche italiane eccola qua vediamo la fotografia sì è un protocollo di intesa noi l'abbiamo con con il comune di Pian di Mileto con l'Accademia delle Belle Arti che prevede appunto un progetto di il festival dell'acquerello dell'acquerello e sì Urbino Urbino Incoming festival dell'acquerello che praticamente vuole portare i nostri i turisti a in questi luoghi a disegnare a così a dei corsi che possono insegnare loro quello che magari in passato gli artisti del passato hanno i scorci che hanno vissuto e che hanno riportato nelle loro opere quindi credo che questo sia un progetto che va in questa direzione ma non è questo progetto da solo perché noi questo protocollo l'abbiamo firmato con Pesaro e Valdefoglia per appunto temi simili ma soprattutto io sto lavorando per dei progetti di veicolazione dei turisti da Urbino e nel territorio in tutto il territorio un progetto dove abbiamo tre navette turistiche che partono da Urbino vanno nella Valle del Metauro nella Valle del Foglia fino a Carpegna e nella Valle del Cesano fino a Cagli a Qualagna a Fossombrone proprio perché noi dobbiamo far rimanere i turisti a vivere questo territorio e raccontargli le cose belle che ci sono da vedere non solo Urbino ma in tutto il territorio dell'entroterra nell'occasione delle celebrazioni di Raffaello io vorrei condividere con tutti i comuni dell'entroterra e anche della costa ovviamente questo momento particolarmente favorevole per ricreare quella conoscenza da parte dei visitatori di quello che è veramente il nostro territorio avete pensato anche ai ciclisti perché avete inaugurato un bike point sì ci sarebbero tanti ieri sabato è stato inaugurato il bike point a Borgo Mercatale il primo del nostro comune quindi chiaramente questo ringrazio la società che l'ha istituito la regione Marche che è vicina a questo tipo di attività con tutti i progetti che ci sono per le piste ciclabili e quant'altro però a proposito di piste ciclabili vorrei dire una cosa chiara noi siamo a favore della pista ciclabile ma non nel percorso della ferrovia io questo lo voglio dire chiaro agli amministratori della nostra regione agli altri colleghi sindaci noi rivolgiamo il treno ad Urbino non ripristinarlo ripristinarlo quindi bene la pista ciclabile ma fuori dall'assetto non raccontiamo stupidaggini nella galleria nei ponti dove c'è la ferrovia non si può fare la pista ciclabile la ferrovia scusate è salva solo per l'intervento di Vittorio Sgarbi che per fortuna era assessore ad Urbino e mi fermo qui perché sarebbe esatto quando partiamo con il treno dalla rete adriatica a Urbino spero prima possibile se la rete rimarrà come stiamo difendendo da quando io sono sindaco e da prima la ripristina della ferrovia sarà possibile sarà possibile sarà una valorizzazione grande e una grande opportunità per il nostro territorio su questo vorrei che i miei colleghi sindaci siano chiari o sono favorevoli o sono contrari non c'è una via di mezzo per difendere la nostra ferrovia bisogna essere favorevoli io spero che voi lo siate ma chi è contrario deve dirlo chiaro perché se lo vogliamo è come con l'ospedale e la sanità se lo vogliono i sindaci non dobbiamo dare responsabilità ad altri se i sindaci lo vogliono chi amministra sopra di noi è costretto a darcelo quindi questo vale per la sanità questo vale per la ferrovia questo vale per le strade perché è 50 anni che si dice che si vuol fare la Peso Urbino come strada ma nessuno veramente l'ha mai voluta adesso è arrivato il momento che con questo nuovo governo ci dia una risposta precisa sabato ci sarà l'intervento di un parlamentare d'Urbino non voglio dirlo per non fare pubblicità un parlamentare della Lega che dovrà dirci se siamo in grado di attuare il progetto della Peso Urbino e della Fano Grosseto a me mi dicono perché il sindaco Urbino non interviene sulla Fano Grosseto perché meno interveniamo e meglio è dobbiamo essere coesi e volerla allora il governo è ora che ce la dà sindaco 30 secondi sulle elezioni provinciali visto che tra i consiglieri non c'è appunto una rappresentanza della vostra città come mai? noi abbiamo per dovere perché essere esclusivi anche qui e volere esserci sempre noi abbiamo rappresentato in consiglio provinciale per 4 anni con un rappresentante di Urbino prima ero io poi il consigliere Massimo Sirotti Massimiliano Sirotti adesso abbiamo detto è bene che ci siano a rotazione altri rappresentanti quindi non ci siamo candidati volutamente perché chiaramente è giusto che anche altri territori che rappresentano rappresentati nel consiglio provinciale a rotazione vengano perché chi vuole esserci sempre a me non piace a me piace che giustamente la democrazia è anche questo disponibilità verso gli altri oggi noi siamo rappresentati da amministratori della nostra componente politica che sono in provincia e che saranno il riferimento anche per Urbino dalle elezioni provinciali e quelle comunali perché lei è stato letto nel 2014 lo ricordiamo il suo primo mandato ormai l'annunciato che si ricandiderà sono usciti anche i suoi avversari allo scoperto abbiamo Londè Rosati Movimento 5 Stelle che presenterà il proprio candidato nei prossimi giorni lei invece il sindaco come vede Urbino nel futuro ed eventualmente con chi pensa di andare al ballottaggio io non penso proprio di andare al ballottaggio perché di vincere al primo turno assolutamente sì perché io l'ho detto anche con chi si è aggiunto alla nostra alleanza che ha voluto aggiungersi perché ha condiviso il nostro percorso e ha capito il lavoro che stiamo facendo per questo territorio per il nostro territorio per Urbino e non solo per Urbino anche Urbino cittadiale che ha deciso di appoggiarla quindi io sono fortemente convinto che i cittadini di Urbino e del territorio intero siano consapevoli del lavoro che ho fatto e quindi su questo baso la mia certezza di essere rieletto perché non si può pensare cioè io mi sono alzato la mattina alle sette sono andato a mezzanotte sempre per dare un servizio alla mia città ai miei cittadini ce l'ho messa tutta e anche laddove non fossi riuscito a farlo i cittadini hanno capito l'impegno credo che abbiano capito l'impegno che io ho messo nel fare questo questo lavoro e questo impegno che ho preso questo impegno che ho preso con loro e su questo credo di non avere dubbi di avere riscontro da loro quindi io mi presento in serenità lavorerò fino all'ultimo giorno del mio mandato la campagna elettorale l'ho detto altre volte la farò il mese di maggio non è che comincio un anno prima come ha cominciato qualcun altro non serve a niente già i nostri cittadini sono assillati da tante cose quindi sentirci noi parlare riparlare sopra credo che non sia piacevole un messaggio per lei sindaco lei sindaco vincerà le prossime elezioni perché ha saputo governare con serietà e umiltà ha trasformato scrive il nostro telespettatore il comune nella casa di tutti e non di pochi grazie e in bocca al lupo le scrivono pensa anche di candidare Urbino a Capitale della Cultura 2023 noi ci candideremo come ha detto il nostro assessore Vittorio Sgarbi che anche questo è un primato perché Vittorio Sgarbi è un personaggio particolare e avere condiviso con lui cinque anni di governo della nostra città non è una cosa è un primato nazionale perché è noto che lui più di uno due anni massimo non riesce a condividere invece con noi veramente con me è un rapporto particolare è servito molto la città di Urbino non abbiamo il tempo di dirlo ma se non c'era Vittorio probabilmente alcune cose compleso la ferrovia e i 400 mila euro che abbiamo strappato al tavolo nazionale per le celebrazioni su 800 abbiamo portato a casa metà del budget nazionale e molto di questo merito va a Vittorio Sgarbi e alla carvvietà mia e del dirigente Orsetti che era al tavolo e che veramente abbiamo fatto un lavoro per strappare queste risorse ma queste sono solo alcune delle cose che quindi questo primato e soprattutto mi collego a quello che ha detto il cittadino poc'anzi io da quando mi sono insediato la cosa che ho badato a fare è non fare parzialità quello che accadeva puntualmente a Urbino c'erano cittadini di serie A cittadini di serie B quelli che erano con noi e quelli che non erano con noi il giorno dopo che sono stato eletto per me i cittadini del PD quelli di Forza Italia quelli di Movimento 5 Stelle erano i cittadini di Urbino e per me sono stati trattati allo stesso modo e questo credo che i cittadini me lo riconoscono e quindi per questo io sono tranquillo e sicuro di andare a testa alta di fronte ai miei cittadini a ripropormi per i prossimi 5 anni grazie sindaco per essere stato nostro ospite ringrazio anche il reggier Riccardo Sore e Cristiana Guerra fra poco la partita di pallavolo di serie A2 della Golden Plus Potenza Picena che ha vinto ben 3 a 0 contro Roma Volley grazie di nuovo al sindaco di Urbino Maurizio Gambini e buon proseguimento di serata con i programmi di Fanu TV arrivederci